salve d'agro palati sto facendo un po di vino nostro casareccio con metodo tradizionale questo è un torchietto di 12 chili o 12 litri ecco che si appresta anche per preparare il vino quando il volume diciamo può essere intorno anche a 50 kg di uva ecco vedete questo è il mosto adesso questo torchietto vedete ogni tanto lo dobbiamo stringere ancora di più perché fa pressione conto per il prossimo anno di comprare un torchio magari giusto giusto per fare un po di vino a me arrivare a meno 150 litri di vino ecco noi non abbiamo avuto tanto abbiamo sempre avuto pergolati però in campagna sto coltivando da qualche anno dei vitigni che cominciano avere dei frutti quest'anno mi ha dato pure abbastanza bene quindi tra il pregolato di casa e quello della campagna ho raccimolato qualcosa come 60 70 kg di uva anzi forse anche 80 kg ecco come sono tanti vitigni commesso e sicuramente nei prossimi anni potrei raggiungere anche tre quintali ecco di uva farlo a mano ovviamente con questo torchietto non è non è facile c'è questa speranza di fare un buon vino casareccio queste di uva magliocco adesso e sarà poi messa messo in una damigiana lasceremo uno spazio di tre quarti più o meno che poi metteremo quanto il vino avrà finito di fermentare a livello forte ecco quando non sentiremo più quel fruscio possiamo tappare ecco qua e adesso vado avanti cino ancora un po da fare in giro è così poi con quella che la rimanenza che stuva nuova pregiata metterò dentro dell'acqua tipo questa quantità diciamo vanno bene anche tre litri di acqua forse anche quattro ecco diciamo tre litri ecco la lascia tutta notte poi il giorno dopo la filtro per ricavare un vinello un vinello che si può bere in qualche giorno mentre si può aggiungere un po di zucchero se volete però molto gradevole fresco e interessante ecco io vado avanti alla prossima occasione da michele expert